La tradizionalmente sonnacchiosa e appiccicosa estate civita vecchiese non regala solo l'endemica apatia della popolazione indigena condita da tante chianchiere inutili. Nel silenzio è altrettanto tradizionalmente dovuto alle notizie di primaria importanza. Nei giorni scorsi il consorzio composto da AnyPlanitude, Cassa, Depositi e Prestiti e Copenhagen Infrastructure Partners ha depositato presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica lo studio di impatto ambientale e il progetto definitivo del Tirrenian Wind Power. Si tratta dell'impianto eolico galeggiante composto da 28 turbine che svilupperà una potenza complessiva di poco superiore ai 500 MW e troverà ospitalità a largo di Civitavecchia. A questo si aggiungeranno poi ulteriori due interventi a largo delle coste sarde. Per quanto riguarda il solo intervento di Civitavecchia, l'investimento complessivo dell'intervento, stando alla documentazione consegnata al Ministero, è arrivato adesso a 2 miliardi e 200 milioni di euro. Insomma, nonostante lo scetticismo di alcuni, il progetto va avanti e percorre peraltro abbastanza velocemente tutti i livelli istituzionali e burocratici. C'è da dire che da altre parti lo scetticismo attorno all'eolico offshore non si manifesta. È notizia di ieri la conclusione positiva condotta a tempi di record della conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica da parte dell'autorità portuale di Cagliari, ad una società metalmeccanica specializzata nella costruzione e nella manutenzione di impianti industriali, con particolare riferimento alla componentistica per gli impianti eolici offshore. Si tratta di un investimento di 14 milioni di euro che troverà ospitalità nei circa 150 mila metri quadrati messi a disposizione dal locale ente portuale e che solo nella fase di avviamento dovrebbe garantire almeno 500 posti di lavoro. La speranza è che l'impianto sardo non diventi concorrenziale rispetto all'hub che dovrebbe sorgere a Civitavecchia e che rappresenterebbe il vero regalo garantito dall'eolico offshore allo sviluppo e all'occupazione cittadina. La speranza è anche che qui almeno per una volta reparti molli non restino vittime dell'appetito di quei fastidiosi insetti a forma triangolare chiamati mosche e non ci riferiamo solo ai soggetti istituzionali ma anche alle forze imprenditoriali che potrebbero avere straordinari benefici dalla realizzazione dell'app.